a cerri è stato dato il giallo in mezzo rete l'oasi in vantaggio rizzuto dell'oasi con andrea rizzuto che già giocò molto bene all'andata mi sembra però che qui di calcio d'angolo il prato deve solo pensare a giocare russo devi essere gol gol di russo il suo primo gol un pizzico di fortuna che veramente mancava da tanto tempo ai biancazzurri poi sul rimpallo non ci poteva arrivare a pruzzese che va a trovare benissimo bello il gol di baldassarri grandissimo e riporta il prato in vantaggio e anzi per la partita odierna quattrini grande palla attenzione ottima occasione russo in mezzo gol il gol di baldassarri il gol di baldassarri nell'area di rigore gran gol di baldassarri è la sua prima doppietta nel calcio a 5 ed in categoria fa correre a pruzzese a pruzzese no look per genzini genzini rete di genzini primo gol anche per lui biancazzurro under 21 protagonista quest'oggi al pala prato l'estra forum festeggia anche il primo gol di genzini se lo merita è la sua terza prestazione buona con poteva forse provare a liberare genzini bel pallone di bardini intanto molto buono grande gol di ballirano e rete eccezionale quella di ballirano dopo un numero di bardini gran gol dell'oasi due minuti e 54 nasce tutto però ripeto da un errore di calamai che si è intestardito calamai se ne va bene sulla sinistra allo spazio rete di apruzzese rete di apruzzese il prato rimette le cose a posto 3.48 si è fatto perdonare calamai testa bassa e pedalare rizzuto in area gran gol di ballirano lo dicevamo attenzione mai distrarsi sotto misura 6.01 ballirano che sta facendo venire vedere i sorci verdi alla difesa del prato 5 a 3 e sbaglia riaprire l'indietro attenzione chance il tiro gol di pasquariello di buonaccorsi buonaccorsi il capitano che riapre la partita errore stavolta di genzini in esperienza ha ridato palla l'indietro e capitano buonaccorsi riapre la partita 5 a 4 apruzzese si gira bene attenzione superiorità numerica della prato che parte bene con calamai rete di calamai rete di calamai nel momento della grande sofferenza 15.38 ritrova il gol anche calamai ballirano sbagliato apruzzese solo attenzione apruzzese apruzzese rete di apruzzese ed esterno pieno e non perdona solo contro il portiere avversario 17.16 peppe gol per il 7 a 4 e qui era più lungo del sempione 6 sconfitte di fila attenzione però perché c'è la rete di ballirano in domito girata e palla dentro gran gol ancora ripeto del migliore in campo perché ballirano quest'oggi ha dato spettacolo 19.02 ballirano per il 5 a 7 intanto ruba palla calamai parte baldassarri baldassarri le finte baldassarri rete baldassarri gol tripletta per baldassarri che ora si chiude il conto con 19.32 sul cronometro baldassarri va a chiudere il conto di questa partita ora si che lo possiamo dire il prato